Ho letto che un'apparizione fantomatica di cui parla Plinio il Giovane ha riguardato addirittura il filosofo greco Atenodoro del I secolo a.C. È vero, è vero, ma il contatto dell'uomo con i piani di esistenza superiori è avvenuto anche prima e ogni volta che l'evoluzione del singolo uomo l'ha permesso.